buongiorno a tutti e benvenuti... ma guarda, ma senti sotto, guarda, non ti pote, guarda, parla adesso, parla, vai, vai, e chi sono quelle testate che fa? E chi sono questi? guarda, prima ci stavano gli inglesi, adesso ci stanno gli italiani, e adesso ci stanno anche gli spagnoli, guarda cosa cazzo parlano questo della pelotta, cosa dice la pelotta? guarda cosa dice pure quello la, eh mamma, spegni quel canale lì, adesso sto provando, stai zitto Ronaldinho, spegni quel canale lì, guarda, ora ci sta l'italiano, dopo ci sta lo spagnolo, e dopo che non ci sa, quello di, non so, quello di, del cazacchi sta, eh mamma santa, io me ne vado, no Ronaldinho, no me ne vado, fuori dalle balle, guarda, non è possibile, smossa giù quello lì, guarda cosa sta dicendo quello spagnolo qua, eh mamma ma mamma, sta parlando qualcuno? Sentiamo? No, non sta parlando nessuno, allora, tempo di incominciare con la telecronaca, guarda, benvenuti finalmente con la prima partita sponsorizzata sponsorizzata qua con FIFA 15, prima partita con i vostri commentatori preferiti, credo, spero, speriamo, vero, edile plastico, Ronaldinho, ritorno casso, qua la prima partita è Liverpool Manchester City, chi vincerà il campionato? Chi sarà il vincitore della Premier League? eh mamma, chi vincerà i grandi soldoni qua a cazzo? Gho puntato anche qua la scommessa, e chi è puntato? Attenzione, Starrys, è subito fuori il primo tiro, eh mamma guarda che svergolata che ha, che ha tirato, l'è la porta l'è impito per là, eh mamma, gioa, lui, che si spera andrà a rinvio, eccolo qua, per Kolarov, è lui, Diego Armando, no, eh mamma, minga stai giocando a rugby, non facciamo più quelle cagate qua perché non stai minga giocando a rugby, Anders, per Sterling, Sterling, per Starrys, Starrys, Sisera, per Allen, Allen, ancora per Starrys, 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 è lui, no, niente, la butta via la difesa di Manchester City, e questa volta invece, quanto hai puntato? Eh mamma, gho puntato quattro case, gho puntato una discoteca, gho puntato anche una brachina di ferro sulla vittoria del Liverpool, al Liverpool e vince il campionato, e quindi il Liverpool vince il campionato, ok, e anche la guardia di finanza vincere a qualcosa, e perché ti dici così dai che dopo me ciappo male e dopo me cava addosso, Gekko, e mamma, sempre queste bolle, perché sempre queste bolle, cazzo? Tanto ruba la palla a Anderson, non si sa come abbia fatto, Starrys, potrebbe partire la palla per Gerrard, 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 e c'è la parata ancora di Hart, e non c'è neanche calcio d'angolo, riesce a salvarsi, incredibilmente il Manchester City, e Sterling ruba la palla, Sterling va alla rimessa laterale, lunga per il Kunagüero, eh mamma, quello lì è il proprio piccinino quello lì è, eh mamma, invece io sono bello alto, alto sì, bello non si sa, eh mamma, non ti permette di dire una cosa, tanto Starrys, campo aperto, è lui, è davanti il portiere, Starrys, Starrys, gol di Starrys, ah mamma, cosa, ma senti, perché ci stanno gli spagnoli che commentano, ah mamma, dai un calcio nel culo, cambia postazione, aspetta, voglio da, basta, e che c'è sta il grande gollasso, la gollasso mania, ho staccato, ci sono ancora gli spagnoli, ah mamma, non ci sono, oh, scusate queste interruzioni tecniche, e c'è il primo grande gol di Daniel Starrys, che punta dentro il gol al diciottesimo minuto del primo tempo, Liverpool 1, Manchester United, City 0, eh, che sbagliato a dire, adesso devi pagare, e cosa devo pagare, eh, ti devi pagare al minimo 100.000 euro di multa, perfetto, eh, oddio, se mi fai un prestito, eh mamma, Ronaldinho non c'ha i soldi da prestare, Ronaldinho c'ha i soldi da scommettere, ma a parte, ma hai iniziato a giocare in Messico, mica giochi tipo in una squadra, quanta lampampungli, boh, eh mamma, non lo so a cazzo, eh, so che sono stato acquistato da una squadra in Messico, ma non mi ricordo neanche manco come se c'ha, ma, comunque, intanto scusa Ronaldinho, c'è Sterling, Sterling, e c'è rimessa laterale, per il Liverpool, Liverpool, cosa sta facendo, aiuto, ecco qua, rimessa per Jordan, Henderson, spero che si chiama così, Henderson, stava andando per il tiro, credo, ah, guarda, non c'è fallo, eh, ho visto bene l'arbitro, ho visto bene, bravo arbitro, bravo, bravo, Gerard, per Starriz, 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 e davanti al portiere, gol, Daniel Starriz, gooo, la so infanabile, cosa hanno kanzi, 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 re del mundo, Daniel Starriz, gol, gol, l'ho staccato, ecco qua il replay della migazione di Daniel Starriz, Un'altra volta di esterno La butta dentro Incredibile rete E inizia ancora una volta Con Yaya Toure Yaya Toure Diego Armando Yaya Toure E lui ha preso la cittadinanza argentina E lui la mano de Dios Per Zeko Yaya Toure E mamma che galcanado quello lì E mamma ci giocavo Si lo so lo so giocavi con Yaya Toure E mamma che svergolada Che ha tirato giù però Rimessa dal fondo Mignole Per Moreno Visto da Quistato da Siviglia Starridge per Coutinho 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 E lui la mette in mezzo Ma non c'è stato nessuno L'abito stava fischiando fallo Invece non l'ha fischiato Non si sa bene perché Palla per Fernando Tanananana Sergio Aguero Ancora una volta per Fernando Grande manovrabilità di manovra Manovrata Perde la palla ancora Moreno Moreno vede Il lancio per Starridge Aveva ci fatta la palla Ma poi l'ha persa Palla per Silva Silva Che cambia lato E quasi sbaglia Incredibilmente Nasri Nasri è lui È lui grande Imbeccata Nasri E c'è il tiro fuori Di Nasri Dopo una bella azione Sentiamo Il tifo Del Liverpool La tifoseria Che tifa Tifando Ah mamma E con cosa Scusate Ancora queste bolle Mamma Se me stanno sulle bale Quelle bolle qua Guarda A dargli un pugno Sul muso Se farebbe solo bene Coutinho Per Lovren Schurter Zero palla Difensivo Del Liverpool Henderson Sterling Si beve Kolarov Nasri Incredibile Sterling Ormai è dentro La mette in mezzo E mamma Faceva bene a tirare Quello lì Te lo dico io Guardalo Schurter A rinvio Sbaglia Lovren Nuovo acquisto Anche egli Moreno Nuovo acquisto Anche egli Coutinho no Perché è già Dalla scorsa stagione Acquistato dall'Inter Moreno invece Dal Siviglia E lui Va in mezzo La passa Malissimo Più male di così Non poteva passarla Eh mamma Ha fatto una gran Cagata Ma Moreno Mica le parente Da quello là Dell'arbitro Infingardo No non credo Si spera Perché altrimenti C'è Le brutte cose Zeko Lui prende la palla Dico Armando Zeko Per Fernando 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 E lui Dico Armando E C'è L'errore Sul fischio finale Del Primo tempo Incredibile Liverpool In vantaggio Per 2-0 Ecco qua Che le formazioni Escono E ci vediamo Per il secondo tempo Mi sembra di stare In discoteca Guarda Pum 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 Parapam Pum pum Tana Nanana Nananana Tana Parapapelo Amamà Disco music Ronaldinho Casso Pientalale Dum Eccoci qua Secondo tempo Liverpool In vantaggio Per 2-0 Doppietta Di Daniel Sturridge Johnson Johnson E lui Dico Armando Johnson Per Sterling 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 Se ne beve uno Se ne beve un altro La mette in mezzo Per nessuno E mamma La doveva mettere In mezzo In mezzo Il campo In mezzo In mezzo L'area E cosa ha fatto E l'ha messa in mezzo In mezzo In mezzo Lovren Lovren prende la palla Per il Moreno Il Moreno la gira Per Gerrard Va bene Johnson Johnson Sterling 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 E lui Che girovagheggia La mette Per Allen Che non ci arriva Recupera Manchester City Subito per Kolarov Mega lancio Della vita Estrema Per Aguero 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 Si guadagna Un calcio d'angolo Sostituzione Esce Samira Andiamo Alla Alla Ma ma sta calmo Intanto vediamo qua Scusate E' andato un attimo In casino Il mio amico Esce Samir Nasri No Ma che cazzo sta succedendo Che cazzo è uscito Che è entrato Fernandinho Che è entrato Non è mingami Parente E' intanto Fernandinho E' uscito Fernando E' anche ho fatto bene A tirarlo fuori Perché se no dopo Non si capiva Un cazzo Nasri Nasri Scusa Eccomi Sono ritornato Nasri Sulla fascia Nasri La Veronica Nasri La Rihanna Nasri La Francesca Invece Moreno Ruba la palla Incredibilmente Zabaletta Zabaletta In mezzo Per Geku Gol Di Geku Stacca il canale Stacca il canale Stacca il canale Sennò Oh mamma Sennò Saltavano fuori Ancora gli spagnoli Qua A rompere il cazzo Con le loro Cagade Zabaletta Zabaletta la mette Zabaletta Johnny Django Come si chiama Geku Aguero Digo Armando Aguero Mica sono imparentati Mica la sua figlia Sta insieme Aguero Il tiro Mignole Impegnatissimo Grande parata E riesce a salvare La palla Addirittura Per poi buttarla fuori Mi sembra più che giusto Cioè si salva Si salva la palla Per poi buttarla fuori Ti sembra giusto Non è la cosa più giusta Guardalo E Se la palla Che è Ah no Fuori gioco Chiato Fuori gioco Al City Johnson Ricomincia per Sterling Scurta Allen Ma Ma Satsamera Minga Al VD No no Non è il VD Sarà il suo parente No Cioè Non è che si schiama Allen Eh mamma Io sono parente di Fernandinho Ma sei detto prima Che non sei parente Di Fernandinho Cosa cavolo stai dicendo Eh mamma Te sto tirando per il culo Coutinho La bella Tentativa di passaggio Per Gerard Coutinho adesso Manovra Lateralmente Per Johnson Cioè per Johnson Scusate Sterling Per Henderson Henderson Per la palla Per la corrente Yaya Toure Agüero Ripatta E lui Agüero E Zinzeko Nazionale bosniaco Che ha giocato i mondiali di calcio Eh mamma la Bosnia È forte Quante volte Ha vincito il mondiale Siete volte No Quest'anno è stata la prima volta Che ha partecipato Come la prima volta Se l'ho visto sempre i mondiali Che ha vinto otto volte il mondiale Eh mamma Ti capisci un cazzo da calcio Dato la palla per Zeko Per Zeko Lui si distreggia Zeko la mette in mezzo Ma sbaglia Yaya Toure Yaya Toure Gerard Spazza via Incredibilmente Parte al contropiede Starriz Manovra al contropiede Allen Parte lui da solo Ma È abbastanza stanco Sono un po' stanche le due squadre E non ci fanno più andare avanti Con i regimi del primo tempo Zabaleta È lui Diego Armando Nasri È lui Parte Zeko 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 potrebbe tirare Zeko E invece no La grande difesa del Liverpool Che sta soffrendo Fernandinho È lui La metterà Lateralmente Aguero Diego Armando Aguero Che mi sa che comunque Sono parenti davvero Ronaldinho Hai avuto ragione Prima E mi chiesto insieme Alla figlia Tipo Una roba del genere Ecco Toure Fernandinho Company Brava la difesa del Liverpool Però qua sbaglia Silva Per Kolarov Kolarov Ruba la Palla Moreno E intanto c'è una Rimessa laterale Ma Mi inizio il mio Coordinatore Che ci saranno dei cambi Triplo cambio Per il Manchester Per il Liverpool Scusate Esce Zeko Per Jovetic Invece per il Liverpool C'è l'entrata E l'esordio Di Balotelli Per il posto di Zergard Toure Esce Allen Anche lui Silva Invece Ruba la palla Per Fernandinho Ah mamma Non è Mingo Parenta Quello No 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 Anche se ho tutti Tutti gli esseri umani Che finiscono con Igno Anche se sono tipo Dei soprannomi Cioè sono i tuoi parenti Cioè metà mondo La Cina È il tuo parente Ah mamma Mignolet Per Moreno Moreno Per Henderson I gols sono stati Tutti nel primo tempo Credo Se non sbaglio Balotelli Intanto per Markovic Markovic È lui È davanti Il portiere Markovic Sterling Il palo Di Sterling Che incredibile Ah mamma Con tutto quello Che gara A Ghiradezapar Proprio il palo Ghiradezapar Ah mamma santa Non si può Guarda Non si può Balotelli Intanto va A pressare Come una La pressa Proprio Perché se non Pressa la pressa Chi pressa Agüero È davanti a lui È solo Agüero Gol Agüero Il gol Che potrebbe Segnare Il campionato Ah mamma Le bolle qua Che rompono le balle Il gol Che potrebbe Segnare Il campionato Al Manchester City Basta soltanto Un punto È l'ultimo Attacco Del Liverpool Tre minuti di recupero Sterling Per Coutinho Markovic Per Balotelli E lui Balotelli Si gira il tiro Carriz Vitano che entra Si va a stringere la mano Ai vari organi Della Dell'Inghilterra Ecco qua Che adesso Andranno a sollevare Il trofeo Grande vittoria Del Manchester City Anche se Il Manchester City È vincito Ragazzi Ci vediamo La prossima partita La grande vittoria Del Manchester City Eh ma non è giusto Che aveva puntato Tutto su Il Liverpool Bastardi Schifosi Schifosi Eh mamma Guarda i fuochi D'artificio Guarda Mamma santa Qua Ci sono Tutte le fasi Della festeggazione Incredibile Speriamo di non vedere Anche le immagini Dei Dopo festeggiamenti Perché Qua la vedo dura Ragazzi Da Edile Plastico E da Ronaldinho Qua È finita La svergolata Di Stardis Vi saluta Alla prossima partita Ciao